Non più rosse ma verdi. Le tradizionali cabine telefoniche britanniche si tingono di tinte non a caso ambientaliste e si trasformano in solar box, stazioni di ricarica dei telefonini che funzionano completamente ad energia solare. Un servizio gratuito offerto per le strade di Londra dalle 5.30 del mattino fino alle 11.30 di sera grazie all'idea di due studenti di geografia della London School of Economics. L'idea di solar box è nata per tre ragioni. La prima è che le cabine telefoniche non sono più usate e sono diventati luoghi per comportamenti antisociali. La seconda è che la durata delle batterie e dei telefonini non regge il ritmo della vita moderna ed infine che non ci sono posti pubblici dove si possono ricaricare i cellulari. Allora abbiamo fatto qualche ricerca, riunito alcuni gruppi di lavoro e abbiamo sintetizzato i tre elementi e questo è il prodotto finale. Il progetto consente di riciclare le storiche cabine di sua maestà ormai gettate in disuso dai moderni cellulari. Le nuove solar box funzionano grazie ad un pannello solare di 86 cm montato sul tetto. Le cabine verdi sono in grado di sfidare anche le classiche piogge di Londra. Occorrono tre ore di sole al giorno per far funzionare le cabine tutto l'anno. Serve così poca luce solare perché usiamo una batteria integrata. Durante i mesi estivi o nei giorni più soleggiati la batteria immagazzina l'eccesso di energia solare per il resto dell'anno. Solar box può ricaricare oltre 100 telefonini al giorno. Per arrivare al 20% di carica bastano 10 minuti. Questo londinese le sta provando, è soddisfatto? Certamente, perché sono un ingegnere e mi servono sempre dei punti di ricarica. Dunque questa è un'idea fantastica. Solo a Londra ci sarebbero 8.000 cabine rosse. Solar box ne ha già tinte 6 di verde e ne lancerà altre 5 all'inizio del 2015.